Ben trovati a una nuova puntata dell'Alpino. Come ormai sapete il 19 e il 20 di ottobre Piacenza ospiterà il raduno del secondo raggruppamento di Emilia Romagna e Lombardia che porterà in città oltre 20.000 persone. Piacenza si prepara per questo appuntamento che ci farà in qualche modo riassaporare l'atmosfera dell'adunata del 2013. Ci sono già stati alcuni appuntamenti, altri sono previsti nei prossimi mesi. Uno è proprio domani sera al Teatro di Pianello quando il colonnello Mario Renna presenterà il libro dedicato alla Prima Guerra Mondiale e poi si esibirà il Coro Ana della Valtidone. Ma ci sono anche altri appuntamenti come dicevamo nei prossimi mesi. Uno il 4 di ottobre coinvolgerà anche gli studenti del Liceo Gioia e del Liceo Respighi con l'orchestra e il coro. Venerdì sera ci troveremo il 29, venerdì sera ci troveremo a Pianello. Ci sarà un bel concerto del nostro Coro Ana Valtidone nelle sue terre e verrà presentato un libro del tenente colonnello Renna che abbiamo conosciuto qua a Piacenza durante l'adunata nazionale del 2013. Il libro fotografico che presenterà immagini della grande guerra, grande guerra in 100 immagini. Sarà una bella serata in preparazione proprio del nostro raduno. Proseguiremo poi il 27 aprile a San Giuliano Piacentino nella zona di Castelvetro, serata di cori organizzati dai gruppi della Val d'Arta. 13 luglio invece a Bettola, serata, gran serata, sarà presente il Coro Tridentina, il Coro congedati a Tridentina, un coro di sicuro prestigio, lo conosciamo bene e sarà una bella serata, sicuramente presenterà nel migliore dei modi quello che è la corralità alpina in previsione del nostro raduno. Sigurerà il 25 agosto la Pietra Parcellara, zona di Perino, lo conosciamo tutti a Piacenza. Nel festeggiamento della sagra della zona tradizionale, adottata dagli alpini della media, bassa e alta Val Trebbia, praticamente tutta la valle, sarà presente una fanfara, una bella giornata in montagna, nelle nostre montagne, sempre un'altra bella giornata alpina. 4 ottobre invece è una serata a cui tengo molto, coinvolgeremo le scuole di Piacenza, coinvolgeremo i due licei, il liceo scientifico Respighi, il liceo classico Gioia, con le loro rispettivamente coro ed orchestra, una serata alpina un po' diversa perché sarà interpretata dagli studenti dei due licei, sempre una serata alpina, presenteremo il raduno sotto una luce un po' diversa. Ritorniamo a domenica scorsa quando ci sono stati diversi eventi importanti per la sezione, il gruppo di Perino ha organizzato una polentata per raccogliere fondi a favore della Croce Rossa di Ottone. Solidarietà chiama e gli alpini ovviamente rispondono, soprattutto se di mezzo c'è l'SOS lanciato dalla montagna, da ottobre Zerbe Cerignale. Le penne nere della Val Trebbia si sono riunite a Perino per offrire polenta in cambio di un contributo che potesse sostenere la Croce Rossa. Sul conto corrente aperto il 19 dicembre scorso da Libertà per raggiungere il sogno, poi diventato realtà di un'ambulanza per l'Alta Valle, sono così ora stati devoluti altre 1800 euro ricavati in poche ore di buona cucina e amicizia, in perfetto stile alpino. Non solo alla cifra si sono aggiunti anche gli aiuti raccolti dalla CGL di Bobbio e dalle offerte spontanee arrivate a Ottone. Oltre all'ambulanza dunque saranno acquistati ausili, mezzi salvavita e altri sostegni perché la Croce Rossa di Ottone abbia sempre più gambe. Attenzione però, la solidarietà da sola non basta, servono infatti volontari perché concretamente si riesca poi a garantire il servizio. Ci spostiamo a Carpaneto e con le foto di Rossella Gallerati riviviamo la festa del gruppo locale. Dopo il successo della festa grande di settembre a Carpaneto, gli alpini sono tornati a sfilare per la festa del gruppo locale. Al termine del rito religioso celebrato da Don Giuseppe Frazzani, le penne nere hanno portato orgoglio e valori lungo le vie del paese, accompagnati dalla fanfara della sezione di Piacenza diretta dal maestro Edo Mazzoni. Il corteo si è fermato davanti al monumento dei caduti per la posa di una corona dall'oro. Il sindaco, Andrea Arfani, complimentandosi, ha sottolineato come gli alpini riescano sempre ad attrarre tanta gente e, cosa importante, ricordino sempre alla comunità i veri valori che hanno costruito l'Italia. Un gradito ospite della giornata è stato Daniele De Pianto, sindaco di Cercino, località in provincia di Sondrio, il cui gruppo alpini è gemellato con quello di Carpaneto. Hanno portato i saluti anche il generale Maurizio Plasso, iscritto al gruppo locale, e il generale Sergio Santamaria, direttore del polo di mantenimento di Piacenza. Durante la festa, come ormai da tradizione, si sono svolte anche le premiazioni del concorso per iscritti sul tema degli alpini, dedicato dai suoi familiari alla memoria di Italo Savi, che ha raggiunto il suo decimo anno e che ha rivolto agli alunni delle scuole medie Silvio Pellico di Carpaneto. Per questa puntata è tutto, l'Alpino ritorna puntuale su Tele Libertà giovedì prossimo a partire dalle 20.10.